La mostra Signorelli 500 ha superato i mille accessi nel weekend. Affluenza corposa al Maek, il vice sindaco attesti puntiamo a battere ogni record. Al concorso di pittura intanto primeggia l'opera con i ragazzi del progetto Vita Indipendente. È stata Rossellina Avoscan ad essere proclamata vincitrice con l'opera intitolata Empatia. Utilizzando la tecnica del frottage con dei gessetti ha deciso di riprodurre un dipinto del maestro che era solito ritrarre le persone che lo circondavano ed ha chiesto di posare per lei ai ragazzi del progetto Viva Vita Indipendente in Valdichiana. Sono contentissima della vittoria, ho intenzioni di usare il premio di 300 euro da spendere in materiali d'arte all'interno del progetto Viva, ha dichiarato Avoscan. Sempre nel fine settimana si è tenuta la conferenza di Claire Van Cleef tra le maggiori studiose dei disegni di Luca Signorelli. L'iniziativa si è tenuta alla moderna ed ha visto la collaborazione dell'Istituto di Istruzione Superiore che porta il nome del grande pittore cortonese. Insomma, un primo bilancio è davvero importante. Sono numeri che ci fanno capire come il lavoro sin cui fatto sia stato fondamentale, ha dichiarato l'assessore alla cultura del comune di Cortona, nonché vice sindaco Francesco Attesti.